E' importante che abbiamo vinto, che abbiamo preso i due punti, già con la sconfitta contro Piacenza siamo rimasti un po' abbastanza direi male. Comunque ci siamo ragazzi, siamo arrivati sei giorni fa, io e Alex stiamo provando di allenarsi con un allenamento prima delle partite, dall'altra parte siamo cotti, c'è normale in questo periodo che andiamo un po' così. Questa grande vittoria anche se sembra 3-2 a Monza ha giocato bene, noi si vede che in momenti giochiamo bene ma possiamo migliorare tanto. Grazie per la visione!